La società consortile ha avuto una multa da 5,2 milioni di euro, oltre all'ingiunzione della cessazione del comportamento illegittimo e la regolarizzazione dei lavoratori impiegati. Un modello di organizzazione della produzione che dunque si sarebbe avvalso di 17 imprese cinesi, composte complessivamente da 763 unità lavorative. Un fenomeno che continua ad imporsi nei sistemi produttivi di Puglia e Basilicata. Le aziende contoterziste del salotto parlano sempre più la lingua cinese. Sono una quarantina le realtà che stanno occupando il mercato, concentrate soprattutto a Matera, Modugno e Altamura, e da qualche tempo anche a Santeramo in Colle. Il primo a lanciare l'allarme sull'invasione asiatica è stato Pasquale Natuzzi, leader della multinazionale specializzata nella produzione di divani. Il gruppo è alle prese con una crisi strutturale, dichiarando 1726 esuberi, poi ridotto a 1506, di cui si prevede che almeno 300 o 400 unità sceglieranno la strada dell'esodo incentivato. Recentemente Natuzzi, che già nel 2010 ebbe il coraggio di denunciare la situazione, ha parlato di recente in una seduta della Commissione Bilancio alla Camera, spiegando la catena dei costi, denunciando la concorrenza produttiva cinese nel triangolo del salotto. Una concorrenza sleale a fronte di costi di produzione molto più bassi. Non ultima la lettera inviata qualche giorno fa al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Delle due l'una o vince la legalità e il sommerso soccombe, o vince il sommerso a scapito della legalità, della sopravvivenza delle aziende oneste, della dignità dei lavoratori. E noi, conclude Natuzzi, non ci daremo pace finché non avrà prevalso la prima.